Oggi con Valsugana Web TV vogliamo raccontare la storia della signora Anna Ospegorard, detta Annetta, una storia di emigrazione da Pergine, ma ce la facciamo raccontare da lei. Anna, intanto grazie per averci ospitato a casa tua. Allora, raccontaci come è iniziata questa grande e lunga avventura. Allora, è cominciata nel 1934. Abitavamo a Pergine, io sono nata a Pergine. Mia madre viveva in un maso su qua. Insomma, ha trovato questo ragazzo bravo, l'ha sposato. E sono andati a vivere a Pergine in una casa della sua suocera. Suo padre di mio padre non c'era, è morto in guerra. E c'era la suocera e si sono stabiliti lì quando si sono sposati. E lì hanno cominciato a nascere i figli. Finché insomma sono nati sette. Mio papà lavorava, non lavorava. E c'era un zio che viveva insieme a mio padre. Lui ha studiato, è andato in seminario, poi non ha voluto andare avanti col prete. E per fare il prete ha voluto studiare dottore. E ha studiato bene, così. E dopo ha deciso di partire per Brasile lui. E ha un po' impotecato la casa, ci ha lasciato qui debiti a mio padre per poter andare. È andato via pensando di fare un po' di fortuna e invece ha dovuto fare ancora un'altra laurea. Perché lì ci voleva un'altra laurea. E insomma dopo è arrivato, ha fatto una bella fortuna, ha fatto sei figli anche lui. Era primario di un ospedale. E allora ha deciso, tenevamo la corrispondenza, un po' per lettere, perché telefoni allora non ce n'era. E ha detto, ha scritto a mio padre, guarda, te, dice, con sette figli, dice, potrai fare fortuna qua se vieni in Brasile. Pensaci tu, se vuoi venire, ti ospito così e se no ti do gli soldi che ho speduto per la casa. E allora mio padre insomma pensa che pensa, vendi tutto. Vendi casa, vendi la campagna, abbiamo venduto i cavalli, siamo partiti del 34. Pensando di arrivare via in una casa come abbiamo lasciato qui. La nostra casa era questa. Su una baracca con dei zocchi, così insomma. Ecco e lì mia madre, abbiamo fatto un mese di nave, una nave mercantile. Andar via, insomma è stata dura. Io ho imparato a camminare sulla nave comunque, nove mesi e mezzo. I miei fratelli andavano a tenere quando la nave tenevano, pensavano che cadesse da una parte, è stata una storia insomma. E siamo arrivati via, arrivati a Rio Grande del Sud, invece che non a casa c'era questa baracca, insomma ci siamo sistemati là. Mio padre, era in tempo che davano le colonie alle persone, c'erano tante colonie giù vicino a Nuova Trento, siamo sbarcati a Porta Alegre noi. E invece siamo arrivati in questo posto che c'era tutto da disboscare, non c'era niente, non si poteva. E mio padre non è mai stato un contadino, lui faceva il muratore più che altro che, insomma, niente, sistemarsi lì, insomma. Nel frattempo è nata una bambina, perché era incinta quando è andata via, con sette fili. È nata una bambina e dopo sei mesi è morta di disinteria. È stato un dolore per i miei a doverla sepolire là, insomma. Ecco, nel frattempo mio padre dice a mio zio, io non voglio star qua a queste condizioni. Mi dice, campagna non è lavoro, avevamo delle galline e così, dice mio zio, fammi, dato che sei muratore, fammi la casa, te, là vicino a Nuova Trento. Era la prima casa di mattoni che facevano. Ecco, insieme a degli negri operai gli ha fatto questa casa che ha durato, ci ha voluto due anni, ce l'ho anche sui libri qua, fatta, fotografata. Mio fratello è andato via diverse volte, l'unico fratello che è stato via era quello più grande. Se la casa è tutto, dopo un certo momento, nel frattempo, è stata un po' cosa, perché mia madre, la passione di questa bambina, dopo c'erano delle mosche che ti beccavano e mi ha beccato una sulla testa, io che ho ancora la seccatrice, e per tre mesi mio zio mi ha curata, e fino a che non viene fuori un cosso così, non guarissi. Pensa a te che roba che era. Mia madre andava a lavare in un rivo di acqua, e c'erano dei bisi coralli che giravano, e invece che lavare continuava a guardare se questi bisi si avvicinavano. Ecco, dopo la mattina, lei mi addormentava con un succhiotto di pezza con lo zucchero, e me lo metteva in bocca perché stentavo a dormire là. E la mattina quando si alzavano non c'era più né succhiotto né niente, ero piena di formiche dappertutto. Nessì è stato un trauma insomma. Insomma alla fine poi per farla corta, mio padre andava a caccia del giaguaro perché veniva e mangiava le galline, se no è così. E dice, no no guarda, dice fammi andare in Italia se no ti uccido. E mio zio ormai ha speso per il viaggio e tutto, è stato un po' difficile a convincerlo da ritornare. E insomma ha detto, va bene dai che ci ha dato i soldi da rientrare. Dove andiamo? Perché avevate venduto tutto per partire e andare in Brasile? Avevamo venduto tutto, non avevamo niente, no. E nel venire qua, lasciato questa bambina morta, venire qua era incinta di un'altra, non c'erano televisioni allora. Era incinta di un'altra. E veniamo, arriviamo qua, ma è stato un tragitto perché nel venire bisognava, siamo sbarcati a Hamburgo. In Germania bisognava cambiare prima i soldi che ci ha dato mio zio, bisognava cambiarli perché sennò dopo la Germania non valevano niente. E non l'hanno fatto, sicché non avevano più i soldi del viaggio da venire da Hamburgo a Trento. Sono andati dal console italiano. Ecco. Lì siamo andati e il console è stato molto gentile e ha aiutato mio padre, ci ha raccontato tutta la nostra storia e dice lasciami qua i soldi che dopo penso io a sbloccare i tuoi... c'era un baule solo con sette fili e quelle stracce che c'erano dentro, insomma. E dice penso io e di fatti il console l'ha fatto. Siamo arrivati a Pergine. bello arrivare a Pergine, ma dove andiamo a dormire? Non si sapeva dove andare a dormire ed arrivare con sette fili, uno aveva ancora nella pancia e uno lasciato la via. E allora ci hanno ospitata della gente meravigliosa, sì. Uno addirittura ci ha dato un camerone grande e questo... Io il ritorno me lo ricordo, sai? E anche il camerone mi ricordo, perché era un camerone grande con della paglia e lì eravamo tutti a dormire là, in questa paglia e c'era un focolaio che facevano qualche cosa da mangiare, ma non avevamo né soldi più niente, no? E allora la gente veniva ogni tanto uno con delle patate o della farina o qualche cosa, insomma ci siamo arrangiati lì così, siamo rimasti lì tre mesi in questo camerone, fino a che non abbiamo trovato un appartamento a Pergine, in via Maier. In questo appartamento c'erano due camere, una cucina, un bagno, un gabinetto col buco in cima a una camera, che l'inverno si agghiacciava e non si poteva neanche andare al gabinetto, non avevamo acqua in casa, dovevamo fare due viaggi secchi per venire su, insomma, con l'acqua. Ecco, tutto da mobiliare, ecco come si fa, eravamo lì, allora qualcuno veniva con un letto, qualcuno veniva con delle assi e allora mio padre, assieme a degli amici, ha fatto una tavola che almeno potevamo, qualcuno ci ha portato, insomma un po' alla volta abbiamo arredato bene e meglio. E lì sono nati ancora cinque figli, dopo. Ecco, dopo sono andata avanti e lì i grandi hanno aiutato a tirare su i piccoli e siamo stati una famiglia meravigliosa, che ci hanno messi tutti sui libri e tutto quello che abbiamo passato, ma poi quello che ha passato mia madre prima non me lo racconto neanche perché è troppo lunga. Ecco, io ho raccontato tutta la nostra traversia del Brasile, però dico che ho imparato tanto dal diario che ha scritto mia madre a 80 anni, che ha scritto tutta la sua vita dalla nascita alla morte. E questo è stato un aiuto per me e sarà un pensiero che mi resterà tutta la vita fino a che ho da vivere perché sono 90 gli anni. Anna, complimenti e veramente grazie perché ci hai raccontato un pezzetto di storia della tua famiglia e di Pergine, molto bello. Ma sì, perché tutti vogliono saperla, questa storia, dai. Ma rimangono proprio incantati quando... ma no, ma come ha fatto? A giri sono andata dalla parrucchiera e l'ho raccontato che venite a... dice mi raccomando perché mi vuole un bene della Madonna, tanta gente che mi vuole bene. E dice mi raccomando fammi sapere dove la fanno vedere perché voglio vederti, voglio vederti, voglio vederti. Grazie ancora Anna. Grazie. 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 Grazie.